Questa settimana, l'Economist ha raccontato Come sta cambiando il modo con cui la Chiesa Cattolica cerca di fare beneficenza? La Chiesa è un'organizzazione che controlla un'enorme ricchezza, divisa tra gli investimenti, fatti per rendere denaro e quelli che servono per fare beneficenza. Secondo il settimanale, alcuni membri della Chiesa, tra cui lo stesso Papa Francesco, vorrebbero eliminare almeno in parte questa barriera. Per farlo, vorrebbero puntare molto di più su una cosa chiamata investimenti a impatto sociale.